È stato approvato ieri dalla conferenza Stato-Regioni il piano per il monitoraggio della circolazione del Covid che introduce i test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'utilizzo a campione dei test eseguiti sulla saliva mette in campo un programma utile per monitorare e ridurre la diffusione del virus, rilevazione che punta inoltre a limitare isolamenti, quarantene e il ritorno della didattica a distanza. Anche nelle marche quindi saranno individuati gli istituti Sentinella nei quali si effettueranno i test salivari e che saranno presi come riferimento per avere un quadro rappresentativo dell'andamento della pandemia tra la popolazione scolastica regionale. La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli assessori regionali alla sanità e all'istruzione Filippo Saltamartini e Giorgia Latini, i quali, attraverso una nota, hanno affermato che sono in fase di svolgimento gli incontri con i dirigenti scolastici e con l'ufficio scolastico regionale per selezionare le strutture scolastiche interessate dal progetto e per delineare le procedure di raccolta dei test che saranno praticate ogni 15 giorni. I due assessori hanno poi ricordato che le marche sono state tra le regioni a pripista per l'utilizzo dei tamponi salivari, per i quali viene ora richiesta un'estensione che permetta lo svolgimento di screening negli impianti sportivi e l'ottenimento del Green Pass. Per quanto riguarda i vaccini, invece, i dati aggiornati alla fine del mese di agosto segnalano che la percentuale di studenti marchigiani tra i 12 e i 19 anni che hanno completato il ciclo di somministrazioni si attesta al 36%, percentuale che sale oltre il 60 se si considerano invece anche i ragazzi che attualmente hanno ricevuto una sola dose. Sempre sul fronte vaccinazioni, ieri pomeriggio il camper dell'area Vasta 1 è arrivato a Gabicce, che insieme a Gradara e rispetto agli altri comuni della provincia registra il minor numero di immunizzati. Meno del 60% degli abitanti ha infatti ricevuto la prima dose. Pioggia e maltempo non hanno comunque fermato le persone presenti in piazza Municipio. A fine giornata le somministrazioni totali sono state 96, un dato commentato positivamente anche dal sindaco Domenico Pascuzzi. Nel frattempo, gli aggiornamenti quotidiani relativi ai nuovi contagi riportati dal Servizio Sanità della Regione hanno segnalato che nelle ultime 24 ore, sui 3.277 tamponi analizzati, di cui 1.611 nel percorso nuove diagnosi, sono stati 169 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle Marche. Di questi, 52 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino. Torna a crescere inoltre il numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere della Regione, che dai 79 di ieri sono passati ad essere 87. Dieci i pazienti in terapia intensiva Marche Nord, uno in più rispetto alla scorsa giornata. Sempre nelle ultime 24 ore è stato inoltre notificato un nuovo decesso legato al Covid-19 e registrato nella provincia di Fermo.